Buon venerdì 26 febbraio. La domanda che mi sono posto questa mattina, che mi è subentrata devo dire, è quella che cerca di esplorare quale sia il rapporto che intercorre tra la nostra disponibilità di accogliere l'altro nella sua essenzialità, indipendentemente dai suoi comportamenti, dal suo essere diverso da noi, questa disponibilità ad accogliere senza giudizio e la dovuta severità che noi dobbiamo applicare se ci poniamo in una dimensione etica. Come possiamo essere contemporaneamente accoglienti, indisponibili a giudizio e contemporaneamente attenti e severi nel cogliere anche piccole sfumature di condizioni che risultano inique alla sacralità della vita? La domanda mi è sorta da un atteggiamento classico all'interno dei club o si diventa terribilmente espulsivi, nel senso che coloro i quali non riescono a rimanere astinenti, vengono immediatamente sottoposti a una sorta di giudizio che rende secondaria la questione dell'accoglienza e anche all'interno della famiglia. Per quanto abbiano frequentato il club per molto tempo, quando accade la ricaduta c'è un'assoluta indisponibilità all'accoglienza. Ma c'è un altro atteggiamento nei club, è quello di lasciar scorrere le cose. Si è ricaduto, non lo riconosce, me ne sono accorto, ma è meglio lasciar perdere. Quello che conta è che noi lo accogliamo, senza giudizio, ma anche questa è una forma di giudizio che risiede nell'affermazione ai mati bisogna dare sempre ragione per evitare la loro ira furibonda. Ma naturalmente in questa frase, che sembra benevola nei confronti dei matti, c'è il terribile giudizio nei confronti della persona che viene considerata, matto, matto da regare, ma accolto. Allora questo ci porta inevitabilmente a prendere in considerazione, ad approfondire, tutti quei piccoli gesti, quei comportamenti innocenti, perché noi abbiamo ritenuto che siano innocenti, veniali, se vogliamo usare una terminologia che è cara alla dimensione del peccato, peccati veniali. Quando abbiamo di fronte a questo, naturalmente noi siamo propensi a dire, ma sì, cosa vuoi che sia. Questo è un classico della presenza all'interno del club. Sono venuto a accompagnare lo strabevitore, e io che sono un bevitore moderato, mi limito ad astenermi per un certo periodo di tempo, ma se capita qualche occasione, non la prendo neppure in considerazione, come una ricaduta. Il ricaduto è lui, anche se ha bevuto poco. Allo stesso modo, quello che è stato identificato come l'alcolista, sa benissimo che ci sono persone che bevono molto più di lui, e che hanno avuto conseguenze molto più deleterie di lui, relativamente al consumo di bevande alcoliche, hanno dissipato patrimonio, hanno otto famiglie. Il loro organismo è malandato più di colui il quale guarda a se stesso. Ci sono alcolisti più alcolisti di me. Qualche decennio fa, il Corriere della Sera, in un articolo sull'alcolismo, diede questa definizione dell'alcolismo. Alcolista è colui che beve più del proprio medico. Perché il criterio di riferimento della follia dell'alcolismo, della depressione, è sempre il nostro bere. La nostra follia, la nostra depressione. Naturalmente, se noi siamo depressi e siamo chiamati a diagnosticare, molto spesso finiamo per considerare la depressione qualcosa che eccede la nostra tristezza. Noi magari siamo dei tristi creativi e colui quale, per esempio, beve in maniera sconsiderata, ma appartiene una classe sociale o la sua vita stessa è stata caratterizzata dal successo professionale economico, difficilmente viene classificato tra gli alcolisti, se non nella definizione di alcolista secondario. Nel senso, sì, è vero, beve, però non è un ubriacone, non è un alcolista o come si usava un tempo un alcolizzato. È una persona che ha delle difficoltà esistenziali, però è una persona rispettabile. Certo, l'alcol gli fa male, ma noi dobbiamo focalizzare l'attenzione sul disturbo mentale che in quel momento lo sta macerando, gli sta rendendo la vita affettiva, sentimentale difficile, ma resta una persona integra, non è l'alcolista che è un dissipatore. Ecco, questi elementi dubitativi sono profondamente presenti nella vita del club, ma nella nostra coscienza personale e collettiva, nei sistemi diagnostici, nei sistemi di cura. Ricordatevi che c'è sempre uno più matto e più alcolista di noi. E questo ci riporta alla necessità di rivisitare radicalmente il nostro modo di porci nei confronti della sacralità della vita. E siamo chiamati ad essere accoglienti e non giudicanti anche di fronte al più estremo dei comportamenti e contemporaneamente molto severi nei confronti di ogni piccolo tratto del nostro e dell'altrui che rappresenta una forma attenuata di quelle forme estreme. Il Vangelo di oggi ci ricorda e ci presenta un Gesù molto severo. Gesù è colui il quale è venuto a stabilire la legge dell'amore, del non giudizio, dell'accoglienza, eppure in questo discorso della montagna sembra particolarmente severo. Vi faccio solo un esempio. Se la legge stabilisce che l'adultero o l'adultera vanno puniti, io vi dico, dice Gesù, io vi dico che anche quell'occhio che ha visto una persona attraente e la desidera si copre della colpa di adulterio e quell'occhio deve essere strappato. Terribile, inaccettabile ovviamente per noi, cosa molto strana. Allora pensiamo, ma sì questa è una cosa del passato, un modo di vedere un po' antiquato. Forse anche noi la immaginiamo come una condizione sessuofobica, ma non c'entra assolutamente niente con la dimensione della sessualità, né ci evoca un quadro sessuofobico, perché non è questo l'argomento. La questione è molto più complessa, nel senso che ci richiama a non cavarcela con leggerezza nei confronti della nostra fragilità, che significa non soltanto fragilità corporea, tempo che scorre e degrade il nostro organismo, ma una fragilità esposta costantemente alle tentazioni, alle sirene che anche il prode Ulisse intuisce essere forme attraenti rispetto alle quali è meglio farsi legare all'albero della nave, per non cadere nella trappola. Questo non significa vivere distanziati dall'esistenza, ma viverla intensamente, esposti a un'infinita serie di tentazioni che ci devono rendere consapevoli che non siamo forti come riteniamo e non siamo neppure moralmente irreprensibili semplicemente perché abbiamo rispettato la forma della legge. Abbiamo saputo essere formalmente fedeli alla relazione d'amore, non adulteri, per il semplice fatto che non abbiamo portato a compimento un desiderio attraverso la congiunzione corporea. Quante volte si è sentito ripetere che sì ho una confidenza con quella persona, ma si usa un'espressione che fa un po' sorridere, guarda che non ci sono andato a letto. Questo dovrebbe essere lo spartiacque, guardate la stessa cosa della definizione del limite del bere. Ci si è arrabattati in questi decenni a cercare di individuare quale sia la soglia oltre la quale si diventa alcolisti. Ricordo che mio amico Paul Wallace fece delle ricerche prima di predisporre un questionario che cercava di individuare le condizioni a rischio rispetto al bere, un questionario internazionale che applicamo anche in Italia. Sono passati anche in questo caso decenni e quando si cercò di chiarire quale fosse l'idea del limite del bere nel campo sanitario e si rivolse il questionario ai medici e agli psichiatri e si scoprì che medici ma soprattutto psichiatri avevano un concetto del limite oltre il quale si diventa bevitori a rischio alcolisti molto elevato perché loro bevevano molto e quindi quella condizione del limite della formalità è un meccanismo autoassolutorio che in qualche maniera ti libera da un'angoscia profonda che intrinseca la nostra esistenza sovraesposta a micro stimolazioni rispetto alle quali noi dobbiamo applicare severità e accoglienza. Allora non è successo niente non sono andato a letto. Questa è una prospettiva che affonda le radici appunto nella sessufobia. Oppure semplicemente uno se la può cavare dicendo che c'è l'ideologia che dobbiamo essere una coppia aperta dove ognuno rispettandosi reciprocamente con grande serietà e liberalità se ha delle esperienze sessuali con altre persone questo è semplicemente attinente alla natura delle cose al soddisfacimento di un desiderio che poi naturalmente il desiderio viene interpretato come il motore della vita è chiaro che più cresce il desiderio più si dà legittimità a quel desiderio più è intensa la vita stessa nella sua capacità evolutiva. Spesso si portano esempi di coppie famose Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir eccezionali. In questo modo si mette a tacere nella vulgata intellettuale la dimensione moralista introducendo una nuova forma di moralismo che cancella di fatto la dimensione etica che ci fa vivere costantemente anche nella persona più prova in una realtà di dubbio lacerante di consapevolezza di micro infrazioni della legge della fedeltà e del lavoro. Infrazioni alle quali non possiamo sottrarci e rispetto alle quali non potendo sottrarci non possiamo neppure giustificarci. E questo è l'essenza della vita un dubbio profondo radicale perché non siamo noi a stabilire la legge della vita. E su questo sapete spesso troviamo una dicotomia di cui abbiamo parlato spesso. Da una parte gli atei che non accettano la legge morale che vieta l'adulterio rimaniamo su questa esemplificazione ma che fa un grande parallelo col problema dell'alcol che considera l'astinenza dell'alcolista e anche delle altre persone semplicemente una forma di moralismo insensato rispetto a un comportamento che deve essere lasciato libero. Molto spesso questi convinti atei estranei al moralismo creano delle condizioni di stigmatizzazione terribile in nome dell'anti proibizionismo pensando che coloro i quali invece indicano la strada del dubbio siano dei proibizionisti. Dall'altra parte abbiamo i proibizionisti quelli che pensano di essere rigorosamente fedeli alla legge e non vedono le microinfrazioni a quella legge che risiede nei loro veniali comportamenti addirittura virtuosi se riescono a entrare nella logica del bevitore moderato e virtuoso o del fedele compagno o compagna che naturalmente mai penserà che sia da strappare l'occhio che vede una persona attraente e inconsapevolmente o consapevolmente sviluppa un pensiero desiderante. Al massimo potrà pensare no io resisto è una attrazione del maligno ma tu hai per un istante desiderato e qui Gesù non lascia scampo e alla fine dirà non sono qui per le sfumature sono qui per il sì e per il no senza alcuna variazione che permetta di trovare un nì dentro il quale ci rifugiamo in grande maggioranza una moderazione che coincide con la mediocrità però è una mediocrità presuntuosa perché pensa di essere sempre comunque dalla parte del giusto e lo fa a partire dal fatto che ha individuato chi sono gli ingiusti chi sono gli alcolisti i veri trasgressori della fedeltà gli adulteri e l'adulterio è dentro di noi non è qualcosa che riguarda soltanto i libertini e non se la cavino facilmente i libertini nascondendosi dietro a una ideologia che in nome di una raggiunta liberazione dalla dimensione morale in realtà annullano la dimensione etica e finiscono per non avere rispetto per l'altro è un passaggio vedete molto stretto dove devono convivere serietà etica accoglienza e amore ed è una porta stretta mentre la via della trasgressione del peccato del godimento è una strada molto larga molto attraente molto seduttiva e a noi deve interessare soprattutto la seduzione che riguarda coloro i quali si autoritengono sono ritenuti probi e normali per coloro i quali manifestano tutta la loro intensità deviante il discorso tutto sommato è molto semplice ma il vero problema risiede nella normalità non nella devianza per questo franco basaglia intitolò uno dei suoi libri più importanti la maggioranza deviante perché noi nella nostra fragilità siamo costantemente devianti e dobbiamo pertanto applicare non solo misericordia verso noi stessi il prossimo ma anche costante attenzione ad emendarci questo ci riporta a una condizione esistenziale che non si autogiustifica né nella dimensione dell'ateismo che coincide con l'identificazione di se stessi come una sorta di divinità né nel bigottismo che trasforma la credenza religiosa in un dio fatto a proprio uso e consumo come ci è stato ricordato ieri all'incontro sul buddismo e l'ecologia profonda professor pasqualotto ci ha ricordato che il buddha e poi lo riporterà anche accanto questo riconosce che le domande più inquietanti e essenziali dell'esistenza umana in tutta la sua fragilità relative all'assoluto e all'infinito all'eternità sono domande che la nostra fragile coscienza non è in grado di risolvere in una risposta rimarrà inevitabilmente nel dubbio quindi le arbitrarie distinzioni tra credenti e non credenti devono essere ritradotte nella riconoscenza nel riconoscere che noi siamo talmente fragili che non siamo in grado di rispondere a quelle domande ma non per questo dobbiamo liquidarle dobbiamo accoglierle come uno stimolo costante nell'ordinarietà della vita quotidiana di vivere in un dubbio costruttivo e non autogiustificativo sarà anche lacerante ma è profondamente fecondo oggi il crescere degli stati d'ansia degli attacchi di panico ci dovrebbero parlare dell'emergenza straordinaria del dubbio che per quanto lacerante sia non può essere messo in silenzio perché ne va della sorte stessa della vita in questo pianeta che molto spesso nella nostra o presunzione o disattenzione rischiamo di annullare e quindi proviamo a pensarci su qual è il nostro atteggiamento nei confronti delle microscopiche tentazioni alle quali siamo esposti e rispetto alle quali non non possiamo né giustificarci perché appunto vievi e veniali né paralizzarci perché noi pensavamo di essere troppo probi per essere esposti alle tentazioni e quindi entriamo nel club in punta di in piedi con umiltà ma con severità etica a partire prima di tutto da noi stessi così il club diventerà un seme fecondo nelle comunità per rendere possibile una vita improntata alla consapevolezza dei limiti della nostra esistenza rispetto alla quale la sobrietà come tensione verso è un monito quotidiano che tutti i giorni ci deve mettere in luce quello che abbiamo fatto e quello che non abbiamo saputo fare se ci fermiamo soltanto su una delle due cose finiamo per essere o annullati nell'impotenza o semplicemente catapultati in un agire onnipotente ma l'agire serenamente impotente significa fare i conti con noi stessi tutti i giorni praticando la via che il buddha chiamerà la via di mezzo tutto sommato quella via che ci fa essere creature fragili tra creature fragili in un contesto complesso di relazioni rispetto alle quali siamo chiamati a coltivare l'etica buona giornata a tutti